Un cavaliere più in forma che mai che all'Aquila si è intrattenuto dopo la visita della mattina al lancio e al progetto case con i giornalisti nel pomeriggio al baco da seta per affrontare grandi temi nazionali ma anche più squisitamente locali. E ho invece trovato che mentre la ricostruzione da parte dei privati è procedita velocemente e invece quella a carico delle istituzioni pubbliche si è praticamente fermata e questo mi è molto dispiaciuto. Per riprendere che cosa si dovrebbe fare credo tornare a un interessamento diretto dei vertici del governo regionale portando anche la questione in caso di necessità monetarie all'attenzione e alla decisione del governo centrale di Roma ma che bisogna partire innanzitutto dal creare posti di lavoro. Per fare questo credo che ci siano diverse cose da programmare. La prima è quella dei raccordi con l'Italia. I raccordi ferroviari con Roma sono praticamente inusufruibili. Stamattina ho sentito che quelle tre ore e mezza che io credevo si dovessero impiegare con la ferrovia Pescara-Roma-Roma-Pescara sono diventate addirittura quattro ore e mezza per cui non la usa proprio nessuno. Due, dieci anni fa avevamo progettato l'ampliamento, il prolungamento della pista dell'aeroporto di Pescara a dieci anni di distanza. Questo non è ancora stato fatto. Ci sono tutti i collogamenti autostradali che erano perfetti al momento della loro creazione ma che adesso hanno subito l'usura del tempo, sono ancora più cari per chi li deve percorrere e anche le reti della circolazione normale, tutte queste devono essere riviste con importanti investimenti. Infine, bisogna secondo me attuare due provvedimenti. Il primo, una fiscalità di vantaggio per le imprese che ritornano qui e per le imprese che qui investono e poi un investimento ancora maggiore per i primi tre anni per le imprese che ritornassero a investire, a lavorare in Abruzzo. La seconda cosa è attuare immediatamente una detassazione e una decontribuzione per le imprese che assumono giovani dai 18 ai 35 anni. La scelta di Marsilio poi come candidato del centrodestra alle regionali si è parlato anche di questo nella lunga intervista con Cessaci. Il Cavaliere spiega che nel sondaggio fatto è risultato essere il miglior candidato possibile, Marsilio. Ma poi abbiamo fatto un successivo sondaggio che lo vede in testa anche tra i candidati delle altre forze politiche. Quindi abbiamo l'auspicabile speranza di poterlo vedere governatore della prossima regione. Non soltanto come il candidato migliore per vincere perché si presenta molto bene, ha una dialettica molto corretta, ma anche perché potrà governare bene per cinque anni. Tra l'altro lui è molto introdotto da senatore presso le istituzioni romane e quindi potrà rappresentare molto bene al Parlamento e al governo prossimo le esigenze e le necessità della sua regione.